Mentre i 5 Stelle bocciano senza appello il provvedimento. PD e Forza Italia hanno creato in questo paese l'emergenza lavoro. Piuttosto che fare passerelle in piazza per il proprio tornaconto elettorale passino i fatti. Per noi fatti sono l'istituzione di un reddito di cittadinanza e l'abolizione dell'IRAP per disoccupati e di imprese.